Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento di Meteo.it. Venerdì sentiremo gli effetti di questo vortice di bassa pressione che continuerà a portare il maltempo al centro-sud. Inoltre sul nostro territorio scorreranno delle correnti di aria artica che causeranno un calo delle temperature. E allora diamo insieme uno sguardo dettagliato alla previsione per la giornata quando avremo tempo stabile al nord sul medio versante tirrenico e in Sardegna. Nuvolosità e piogge sul medio versante adriatico al sud e in Sicilia con quota neve intorno ai 200-300 metri tra Abruzzo e Molise. Poi nel fine settimana il tempo migliorerà in tutto il territorio anche se vedremo un po' di annuvolamenti e piogge al centro-sud. Il tempo resterà in generale soleggiato al nord e le temperature aumenteranno in tutto il territorio. Vi ricordo naturalmente che per restare aggiornati potete consultare la nostra applicazione gratuita meteo.it